Stagione finita e Vastese ai titoli di coda. La Ragona, terra di conquista in molte troppe occasioni sotto la gestione Favo, vince l'Agnonese di Alessandro Del Grosso che blinda la quinta posizione e stacca lo storico traguardo dei play-off. La Vastese avrebbe solo dovuto vincere sperando i risultati favorevoli dagli altri campi ma ad alzare braccia al cielo è stata la squadra più squadra, solida, robusta, determinata, ben condotta. Favo propone Santoro terminale offensivo al posto di Prisco che entrerà nella ripresa supportato da Galizia e Fiore. L'Agnonese è ben equilibrata con peici trequartista e due punte, squadra che rischia pochissimo e nella ripresa pigia sull'acceleratore a caccia del successo, al seguito una festosa rappresentanza di tifosi molisani. Su poriferi i primi minuti la partita gradualmente prende quota con i biancorossi che vorrebbero ma non fanno, gli ospiti che hanno il predominio almeno territoriale, molto più ricco il secondo tempo rispetto alla sonnecchiosa prima parte. Eppure su calcio piazzato è Galizia che stampa il pallone sul palo al diciassettesimo, prima occasione. Rispondono i molisani con un pallone dalla sinistra che Russo respinge con i pugni, Peic raccoglie e mira in porta, Russo blocca senza affanni. Ancora Agnonese nel finale, Margarita vola sulla destra, resiste agli avversari, mette in mezzo per ricamato che disturbato riesce ugualmente in qualche modo a colpire, pallone fuori di un soffio. Più emozioni nella ripresa con l'Agnonese che spinge a trazione anteriore. La partita si fa bella con gli aragonesi che rispondono colpo su colpo, il calcio franco di fiore termina sulla barriera, poi l'attaccante non è preciso nella conclusione. Da parte molisana si protesta invece per un presunto rigore per tocco del centrocampista guida in area. Favo inserisce Prisco per Santoro, l'Agnonese è ragazzo per ricamato, l'esperto attaccante cambierà volto alla gara. Intanto ecco Prisco che al 29esimo si gira e costringe Campanico a rifugiarsi in angolo. Sul tiro dalla bandierina susseguente, sempre Prisco gira bene di testa, il portiere c'è. Capovolgimento di fronte, Guerra va vicinissimo al gol, con Russo che sotto misura sventa, ma l'episodio chiave al minuto 33. Campanella compie fallo sul ragazzo ed è rigore. Lo stesso ragazzo trasforma, nonostante il portiere dia l'impressione di arrivarci. In seguito l'Agnonese controlla, con la vastese ormai consapevole che saranno solo vacanze. Mister Favo, quanto rammarico per una stagione che finisce qui? No, è rammarico che ci avevo creduto fino a un certo punto, quando abbiamo avuto anche le due occasioni con Prisco, anche se era un'illusione perché dall'altra parte la San Maurese vinceva già il primo tempo 3-0, però i giocatori non lo sapevano. Fino alla fine, peccato anche che il rigore era stato preso. Una stagione che è finita così, però io devo dire che ho sentito delle cose che non mi sono piaciute, perché i ragazzi hanno dato tutto. Anche oggi siamo stati sfortunati col palo di Galizia, con le due occasioni di Prisco. Sinceramente potevamo sicuramente vincere la partita. Era una partita aperta, si sapeva, noi avevamo solo un risultato. Molte volte nella concitazione si sbaglia pure, perché è logico che noi avevamo solo questa possibilità. Fa male perdere in casa, perché fa male perdere in casa. Mi è dispiaciuto pure che il ragazzo di rigore l'aveva preso. Purtroppo è proprio un'annata che doveva andare così. Adesso bisogna valutare se questi 45 punti sono troppi o sono pochi, nel senso che questa è una squadra che ha avuto degli alti e bassi. Però giocarci questa chance fino alla fine ne valeva la pena, l'avevo detto ai ragazzi e sinceramente anche l'applicazione alla partita c'è stata. Hanno provato a fare tutto dopo. Abbiamo preso questo gol e un quarto tolato alla fine sembra il 3 di più nonno di questa annata, sempre con l'Alfonsini a prendi gol alla fine e non a far recuperare. Peccato che nel momento migliore nostro, quando poi abbiamo messo dentro anche Umberto, quando avevo visto più stanchi gli altri due, Santoro e Galizia, potevamo fare gol. È andata così purtroppo. Alessandro Del Grosso, complimenti. Traguardo storico pienamente meritato. Adesso il bello chissà deve ancora venire? Deve venire. Adesso affrontiamo queste due settimane, non so neanche effettivamente chi andiamo ad incontrare. Non so cosa hanno fatto gli altri risultati. Sapevo che noi dovevamo per forza vincere comunque, cercare almeno a vincere la partita. Ho tenuto la squadra in equilibrio fino a mezz'ora dalla fine per vedere anche come potevamo reagire. Perché sai, in una partita così importante come l'ultima dell'anno, insomma, fuori casa, dove anche loro si giocavano i pre-off, non è facile. Ho parlato con i ragazzi bene in settimana per cercare di avere un equilibrio sempre. Perché comunque alla fine noi non avevamo niente da perdere. E noi siamo partiti piano piano, passo dopo passo, e siamo arrivati qui. E loro invece dall'inizio che comunque puntavano a un qualcosa di importante. E complimenti alla vastezza perché oggi se l'hai giocata e ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. Sinceramente non sto io qui a dirlo perché l'ha dimostrato sul campo con i stessi punti che abbiamo fatto noi, forse noi qualche punto in più. Però devo dire bravi ragazzi perché sono arrivati a un traguardo importante. Importante per la società, per la città di Agnone, ma più che altro per loro. Perché hanno fatto un anno di sacrifici in un piccolo paese. Insomma, si sono andati a riprendere quel qualcosa di importante che hanno fatto durante l'anno, lontano dalle famiglie, come io stesso. Adesso la concentrazione nelle ultime due settimane, però Alessandro Delgrosso è l'allenatore che piace. E la società vastese non nasconde che piaci anche a loro. Ti devo fare la domanda sul tuo futuro oppure chi siamo? Tanto siamo amici. No, va bene. Il futuro è alla merce di tutti. Vediamo cosa succede dalla prossima settimana dopo i play-off. Io l'ho detto alla mia società, io sono a disposizione per tutti. Non ho un contratto biennale, però sicuramente devo ringraziare questa mia società. Non so cosa farà la mia società, perché hanno il problema anche del campo. Se poi faranno qualcosa per il campo, la società sicuramente sarà presente. Però è un obiettivo importante avere il campo a disposizione, perché noi è vero che abbiamo un campo, ma è un campo veramente, se mi permettete, scandaloso, perché ha dieci anni, non ha più drenaggio, è un tappeto sopra l'asfalto. Molte infortuni quest'anno potevano venire. Siamo stati bravi a prevenire molti infortuni, però devo dire che grazie alla mia società, grazie ai ragazzi, grazie al Tifo, grazie alla città di Agnone, dedichiamo questa impresa, tra virgolette, storica a tutti quanti. Va divisa per tutti.